Ciao! Benvenuti su Modern Warfare 2! Sono pronta a prestarmi alla mia prima partitina! Che diavolo stai facendo, cara? Sto giocando a Modern Warfare 2! Tu non sei in grado di giocare a Modern Warfare 2, stupida! Ah sì? Guarda! Vediamo! Vado a prendere la balla! Ma che diavolo stai facendo? Ohi! Mi ritiravati dal... Dal cazzo! Cosa? Ora si permette! Sei fottutamente nubba! E questo? Questo che fa? Lascia stare sti poveri Cristi! Pensa! Ehi! E questo? Anche io giocare col telefonino! Tesoro, ascolta! In questo gioco tu sei un cazzuto soldato! Con una cazzuta tutta e delle cazzute armi! Con le quali devi far fuori ogni cosa che si muove! Quindi vai devi seguire i tuoi cazzuti ordini! Ordini? Quali ordini? Segui l'indicatore! Il dannato pallino bianco! Non è difficile, no? Cosa fai ora? Vado al pit! Ok! Scendi! Scendo! Segui l'indicatore? Seguo! Vai dal capitano! Vado lì? Ti spolvera il culo se non fai la brava! Non ci credo! Prendi la pistola, stupida! Eh, silenzio! Sto solo cercando di sentire i miei ordini! La pistola è ancora sul tavolo! Eh, un attimo! La sto prendendo! Gesù, fai schifo! Basta! Cambia arma! Zitto! Ti ha chiesto di passare al fucile! Ho sentito benissimo! Passa al fucile! Zitto! Passa di nuovo la pistola! Ripassa la pistola! Ok, ho capito benissimo come funziona! Ne sono certo! Ora devi fare il percorso d'addestramento! E mutati! Lo so benissimo quello che devo fare! Sì, certo! Infatti stai andando nella direzione sbagliata! Lo so, lo so! Stavo solo dando un'occhiata! Fai veramente schifo! Ma vuoi mutarti? Vuoi entrare nel cazzo di percorso? Ehi, sto solo ascoltando gli ordini del capitano! Ma quali ordini? Ti sta parlando solo di stronzate! Quali stronzate? Robe senza una concretezza logica, videoludicamente parlando! In pratica è inutile! E non solo lui! Ok, è il momento dell'addestramento! Ci provo! Spara! Co-cosa? Spara! Sparo! Dove? Ai terroristi! Cosa? Quali terroristi? Vedo solo dei cartoni con delle facce stampate! Merda, è una simulazione! Spara a sti cazzo di cartoni! Che male possono farmi dei cartoni? Vedrai che culo ti faranno dopo! Ok! Allora sparo! Sì, ma guarda dove spari! Ehi, sto solo cercando di concentrarmi! A inculare le bollicine di ossigeno? Senti, non è così semplice! Si muove tutto lo schermo! Non si muove lo schermo, sei tu che lo muovi! Cosa? Io? Merda! Fai schifo al cazzo! Silenzio! Sto colpelli a cartoni! Se fossero stati veri, ti avrebbero già trivellato il culo! Io non mi faccio la testa in testa dai! Cartoni? Basta! Sono intelligenti! Cospa io all'intervisto! E... Oh! Un'intelligenza artificiale da primo ordine! Ok, ne ho presi! Cosa hai preso? Deve evitare i fottuti bambini! Ci sono bambini qui? Merda! È un miracolo che Infinite World abbia creato un gioco per nabbi! Sì? La prima che facevano! Grazie al cielo c'è gente che odia sto gioco! La maggior parte lo boicotta e poi lo compro lo stesso! Ehi! Mi hanno chiuso il cancello in faccia! Sì perché devi far avanzare velocemente le chiappe! E smettila di sparare alla cazzo! Ok! Ci ritrovo! Tieni la mano ferma e punta il bersaglio! Lo sto facendo! Mira e spara! Come? Così? Sì! Stai colpendo ogni angolo del pianeta! Scusa! Non ti seguo! Devi colpire i bersagli! Un colpo o un bersaglio! Non sparare alla cazzo di cane! Stanno andando giù per la mia mano! Il capitano andrà giù di mano quando vedrà tutti i proiettili che hai sprecato! Cinzia! Sto cercando i cartoni da colpire! Non sparare a tutti quanti per favore! Come? Stai beccando anche dei bambini! Cosa? Quelli vestiti buffi? Non sparare lì! Colpiscilo! Ok! Fatto! Non sparare a tutti! Ok! Molto bene! Spara a tutti! Continua così! Yeah! Aspondandola grande! Sono pronta a stare sul campo! Sei pronta a crepare? Sul campo! Zitto! Non vedi quanti cartoni sono caduti? Sì! Peccato che vai a passo di Brady poche in culo ai bambini! Sto facendo del mio meglio! Ecco adesso quando arriva il cerchio rosso! Corri! Corri veloce! Sì! Corri verso l'uscita! Il terzo scorre! Cosa? Devo farlo di nuovo! Sì! Devi farlo di nuovo! Perché l'unica cosa di cui ti sei preoccupata è stata triverare le chiappe di bambini negri indifesi! Zitto! Santo cielo! È un'ora che siamo su questo addestramento! Però devi ammettere che sono migliorata! Ma l'addestramento è un conto! Capire! Il vero campo di battaglia è un altro! Se ce la faccio qua! Ce la faccio in ogni cosa! Ok! Adesso corri! Muovi il suo culo! Ce l'ho fatta! Sì! Hai fatto il peggio punteggio nella storia dell'umanità! L'importante è partecipare! Ora devi scegliere la difficoltà! Ma qualunque cosa tu scelga, non scegliere! Veterano! Veterano! Santo Dio! Non puoi giocare a veterano! Sì! Io ce la posso fare! No! Perché fai schifo! Fai veramente schifo! Ti spediranno l'altro mondo in un baleno! Senti! Io ho tirato i giocatori! Quindi sono pronta a tutto! Chiaro! Lo rompere! Ha ha! Adesso ci sarà da ridere! Voglio proprio vedere quanto resisti a sto puttanaio su schermo! Cosa? Io? Sto chiamando me? Sì! Dopo il punteggio che hai fatto ti hanno portato in una barra già bella pronta! Ah ah! Mi sentite! E ora che devo fare? Devi raccogliere meloni auguri da vendere a portapalazzo! Cosa? Ma smettiti di fare il cretino! Devi eliminare il nemico, no? Non a quelli! Sono i tuoi alleati! Cosa? Ma che cavolo? Scusa ma ti pare corretto sparare i propri compagni? E io che ne so! Sono con forza l'intrope di sto cretino! Comunque adesso mi fai la cortesia di abbassarti ed andare alla buca! Ehi! Spagna! Che ti ho spesso detto? Vuoi fare anche uno spettacolo ammagliatore? Scusa ma non vedo neanche che diavolo mi sta sparando! Come non lo vedi? C'è un intero esercito davanti a te! Quelli con la tuttina marrone e il cappello busto? No! Quelli sono gli amici! Sposta la visuale dall'altra parte! Ma non ho mica capito che c'è dall'altra parte! Scusa ma che cosa è servito al corso di addestamento? Stiamo di nuovo da capo! Sì ma ho imparato a usare la pistola! Ma è questo coso! Ma qual è il problema? Che cosa cambia? Spagna che altra! È leggera e delicata! Questa non mi freva tutto in mano! Ma come fa a tremarti in mano? Non ha la vibrazione il mouse! E cos'è quest'altra mia voleria? È un lancio a granate! Inclinano in alto e spara lontano! Ma perché lontano? Ma ti ho già detto che i tuoi nemici sono dall'altra parte del fiume! E che ci fanno dall'altra parte? Stanno pescando salmoglie e trote fresche! Che te parla sto poco amico! Senti premi esche ed abbassa sta difficoltà! Ma non è difficile! È il gioco bastardo! Non si capisce una mazza! Vai! Difficoltà minore! Abbassa a stupida obesa celebrolesa! Ma anche stupida obesa celebrolesa! Perché sei una stupida obesa celebrolesa! Senti Ario mi ha regalato questo gioco e quindi ci gioco! Si vede che ha fatto talmente schifo che l'ha rifilato al primo che è capitato! Ma è stato gentile! Mi ha regalato a posto di vederlo! No! È stato gentile perché dopo l'inculata ricevuta non ha voluto inculare qualcun'altro a sua volta! Ehi! Ma dove è finito il mirino? I lanci a granate non ne hanno mai avuto uno! Comunque guarda che percezioni! Sto lanciando tutte le granate! Sì ma se non le lanci non te lo stiamo qui fino a domani! E poi non li sto in un rete colpendo! E chi ti può colpire in questo livello demenziale? Sì ma perché non posso muovermi? Mi sto trafettando in questa buca! Perché il livello iniziale è di una palla epocale! Devo continuare a lanciare granate? Ma sono infinite? Certo che no! Ora devi mirare i bersagli! Quali bersagli? Non vedo niente fino laggiù! Porca troia c'è una scritta gigantesca! Almeno quella riesci a vederla! Ma che scritta? Sopra il ponte c'è scritto bersagli! Ecco spara lì! Ma perché sono così biglietti da attaccare da lontano? Vuoi che vengano ad abbracciarti e a fare una briscola in compagnia? Noi i pali sono molto socievoli! Anzi sono tutti dei grandi rompiballe in questo gioco! Sì soprattutto quando giochi in multicon Lugger, Lamer, Cheater, Camper e BimbiMinker! Ma chi sono? I membri del tuo clan? No! Quelli sono in after! E ti diverti con loro? Ma voglia! Mi diverso a fare fuoco amico come te? Ah ah! Di quello non puoi lamentarti! Non l'ho più fatto! Eh! Voglio vedere quanto dura! Ma il quarto sopposto è il traditore! Mi spara! Ma sei deficiente? Il traditore sei tu! Ma mi sembrava tanto che mi stesse sparando! Senti ora mi fa un piacere! Vai di sopra e togli il dito dal pulsante sinistro del mouse! Ma è quello che sparare? Appunto! Non serve più sparare! Gli nemici si sono tutti ritirati! Vuoi dire che li ho fatti scappare? Che ho fatto io tutto questo? Ma se ti dico di sì! Tu poi chiudi sto gioco di merda e possiamo fare qualcosa di serio! Tipo cosa? Ti faccio provare Damnation! Vedrai che goduria! Ora devo salire in macchina? Sì! Sali e mettiti sulla torretta! Una torretta? Ma è molto figaccioissimo! Oddio! Oddio! Squirta sulla torretta! La fine dell'umanità come la conosciamo oggi!